In attesa che l'Assemblea regionale voglia legiferare in materia, in teoria se nulla cambia, a maggio in Sicilia si vota anche per rinnovare le province, ovvero eleggerne i presidenti e i consiglieri provinciali. E allora, forti anche del recente risultato elettorale conseguito in Sicilia, i deputati regionali del Movimento 5 Stelle oggi riprendono un loro cavallo di battaglia e ribadiscono in Commissione Affari Istituzionali dell'ARS che le nove province siciliane vanno tutte abolite. A differenza del decreto Monti che trasformava le province in enti di secondo livello non elettivi riducendone i costi, decreto che poi il Parlamento nazionale non confermò, i grillini in Sicilia chiedono la completa soppressione delle province, anche facendo riferimento alle possibilità offerte dallo statuto speciale. Il risultato del voto è evidente, l'Assemblea ha un'occasione importante per manifestare un atto di coraggio e i cittadini vogliono cambiamenti veri, dice Salvatore Siragusa del Movimento 5 Stelle, componente della Commissione Affari Istituzionali. Il Movimento ha già deciso di non presentare candidati alla prossima tornata elettorale per le eventuali provinciali e i grillini chiosano così. Se l'ARS ha intenzione di mantenere gli attuali enti, se ne assumerà tutte le responsabilità di fronte ai cittadini.